Lo swing è una cosa che esiste da sempre, da quando esiste la musica moderna. È la cosa che qualsiasi musicista si porta con sé. Se anche solamente una volta hai ascoltato un disco di Clank Sinatra, un po' del più grande batterista di tutti i tempi, visto che io sono un batterista che è battericci. So che per avere continuità serve tantissima passione. Per credere in quello che si fa serve non inseguire, per lo meno questa è la mia opinione, non inseguire necessariamente qualche filone semplicemente perché è il filone del momento. Credo che la chiave della passione sia la chiave fondamentale. Io pur di fare musica ho cercato di sfruttare tutti i momenti in cui la potevo fare, e di sfruttare tutte le possibili strade che mi potessero portare ad un minimo di indipendenza. Quindi immagino che Paolo abbia detto ho fatto tutto quello che si poteva fare, io a mia volta. Sì, che chiaramente è un personaggio, un artista conosciuto in campo nazionale e internazionale, ma soprattutto è un grandissimo intrattenitore. Quindi la scelta è stata, diciamo, voluta proprio per questa sua capacità di coinvolgimento. E infatti abbiamo saputo a livello informazioni, amici con amici, che c'era il concerto e abbiamo detto ok ci saremo anche noi quest'anno. Siamo di Brescia, zona Lago di Zero. Noi siamo di Alba e auguriamo a tutti un felice anno nuovo. Ecco, a Paolo Belli è il massimo degli auguri. Salute, denaro, amore, felicità.